Buonasera e bentornati in onda, sono le 20 e 38 minuti. Buonasera David, mentre noi stiamo parlando vedete forse le immagini di Federica Ciriello collegata dal porto di Catania. Buonasera Federica, un attimo e veniamo da te con Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Medici Senza Frontieri. È in corso in questo momento una trattativa, non sono esattamente operazioni di sbarco perché qualcuno è sbarcato e qualcuno è rimasto a bordo. C'è questo sbarco selettivo sulla base evidentemente dello stato di salute e dei migranti, una cosa diciamo nuova, forse con dei profili di incostituzionalità di cui non si è mai parlato. 144 persone sono sbarcate dalla Humanity One ma 35 sono rimaste a bordo per capire quali siano i criteri di tu sì tu no, chi sale, chi scende, chi resta, chi parte. Parleremo con e collegato con noi il professor Sabino Cassese, bentornato professore, grazie di essere di nuovo con noi e in studio Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide, di Presidente e collega e Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e della rivista e associazione culturale Nazione Futura. Un momento e torniamo con voi da Catania, gli sbarco. Buonasera e buona domenica, buonasera a Concita De Gregorio. E allora, come detto, che cosa fa un governo di destra? Un governo di destra blocca le navi e fin qua nulla di nuovo, potremmo dire, lo avevano promesso, detto in campagna elettorale, però questa sera ci dobbiamo sostanzialmente provare a chiedere tre cose. Primo, questa decisione presa dal governo rispetta il diritto internazionale. Secondo, questa decisione ci aiuta nel dialogo con gli altri paesi europei, Germania e Francia, nel ricollocamento dei migranti. Terzo, la selezione delle persone, così come vedremo tra poco, è una scelta, come dire, giuridicamente accettabile oppure può essere impugnata? Buonasera al professor Sabino Cassese, editorialista del Corriere, nonché giudice e merito della Corte Costituzionale, bentornato. Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide, volto della Sette, benvenuto e buonasera, grazie per essere con noi e benvenuto a Francesco Giubilei del Team Tank di destra, Nazione Futura, nonché presidente della Fondazione Tatarella, grazie per essere con noi, uno dei giovani intellettuali della nuova destra. Subito a Catania con Ludovica Ciriello che ci dà le ultime notizie dal porto. Come ricordato da Concita De Gregorio sono sbarcate 144 persone, ma 35 sono a bordo. Vai Ludovica. Sì, David, buonasera, buonasera Concita. Noi siamo sotto la seconda nave che è arrivata qui a Catania, la Geo Barents, la vedete alle mie spalle, mi faccio anche un po' più in là perché così potete vedere i migranti che a piccoli gruppi stanno scendendo dopo aver affrontato una fase di screening, per questo che è stato definito uno sbarco selettivo. Sono 572 le persone che erano a bordo da 11 giorni di questa nave e tra loro c'erano 60 minori, circa 60 minori. Le operazioni di controllo continuano anche qui alle mie spalle, vedete infatti un gran movimento perché qui che si decide chi potrà rimanere in Italia e chi dovrà invece risalire a bordo della nave. Ammesso che funzioni così anche per questa imbarcazione. Lo chiediamo a Riccardo Gatti che è stato qui per un mese sulla Geo Barents. Cosa vi aspettate che succeda alle persone che sono a bordo? Succederà come per l'Humanity One? E cosa significa questo per voi? Noi ci aspettiamo che vengano rispettate gli obblighi internazionali, le convenzioni e la sala guardia della vita umana in mare che detta il fatto che le persone soccorse in mare devono essere sbarcate in un luogo sicuro il prima possibile. Ci aspettiamo questo, adesso altre sorprese, vedremo un po' cosa succederà perché sta al di fuori da quelle che sono le normative e gli obblighi internazionali. Ludovica ha una domanda, ci stavamo facendo qui in studio. Questa selezione negli sbarchi, chi la compie, chi è materialmente che esamina le persone e in base a che cosa? Sono dei medici? Sono dei funzionari? Quali sono i criteri? Ci sono dei medici, so peraltro che dalla Humanity One ieri lamentavano l'assenza di un mediatore culturale che potesse aiutare in questa selezione, invece qui stasera chi c'è? No, a bordo sono arrivate come sempre i medici del Ministero della Salute, perciò praticamente fino adesso le procedure sono andate avanti come sempre. Si arriva a bordo i medici del Ministero della Salute e fanno uno screening anche tenendo da conto le documentazioni e i referti del nostro team medico e da lì si mette in atto lo sbarco. Poi vengono sbarcate evidentemente i minorenni non accompagnati, le famiglie e quant'altro. Fino adesso sembra che le cose stanno andando come devono andare e come sempre sono andate. Ma mi scusi Gatti, stanno andando come devono andare e le intende che tutti vengano sbarcato? Possiamo sapere quali sono i criteri? Cioè chi è sbarcato e chi no? Fino adesso sono sbarcati i minorenni non accompagnati, famiglie, casi medici, stanno ancora sbarcando i casi medici. Cosa sono i casi medici? Sì evidentemente anche le donne. Cosa sono i casi medici? I casi medici sono tutte le persone che hanno diciamo a livello di priorità sono tutte le persone che hanno delle riscontrate patologie e devono essere sbarcate. Non devono essere sbarcate perciò ma diciamo in un livello di priorità numerica nello sbarco vengono sbarcate prima di altre. Quindi non sbarcano gli uomini adulti in salute? Noi ci aspettiamo che sbarchino anche gli uomini adulti in salute perché questa è un'operazione di sopposto. Per far capire a casa perché stiamo parlando già da molti minuti ma vogliamo chiarire chi è che sbarca e chi non sbarca. Non sbarcano in questo momento non sbarcano gli uomini adulti che non hanno patologie, quindi gli uomini adulti sani. Che sono apparentemente in salute. Ancora non abbiamo ricevuto queste indicazioni perché lo sbarco sta ancora procedendo. Non abbiamo ancora ricevuto questo. Ci aspettiamo in questa storpiatura dello sbarco che potenzialmente possano non sbarcare persone adulte in salute. Grazie Gatti, Ludovica tra poco. Professor Cassese, poi arriviamo subito allo studio. Ludovica so che poi ci porterà anche qualche parlamentare, c'è un parlamentare del PD, il senatore Ricita, c'è Abubakar Sumaoro che anche lui è sulle navi. Insomma tra poco vedremo anche il ruolo della politica ma lo studio ce lo permetterà. Professor Cassese, davvero rapidissimo ma chiaro come solo lei sa essere. È legittima questa procedura dal punto di vista del diritto o può essere in qualche modo impugnata? Cioè selezionare, potremmo dire, i sommersi e i salvati per usare come dire il titolo di un famoso libro di Primo Levi. Ma per molti di loro sarà così probabilmente. Guardi, bisogna innanzitutto dire una cosa e cioè che abbiamo tutti appreso che è stata data una diversa interpretazione al luogo di sbarco. Cioè il Ministero si è orientato nel senso che una persona che sia stata presa a bordo di una nave battente bandiera norvegese o tedesca, intanto per il solo fatto di essere a bordo di quella nave è sbarcato in un territorio norvegese o tedesco. Questo è la premessa di tutto quello sta accadendo. Dopodiché il governo che in questo senso ha dato un'interpretazione come dire dura del concetto di confine sta cercando da quello che ho capito di introdurre dei criteri umanitari correggendo questa regola e facendo scendere le persone, i minori e le persone che hanno dei problemi di salute. Dal punto di vista costituzionale italiano questo è un'assoluta novità ma tenga presente che la manipolazione delle frontiere viene fatta in diversi paesi. Quando dico manipolazione delle frontiere le faccio un esempio, gli Stati Uniti d'America hanno una fascia che è di 100 miglia all'interno della quale se individuano un immigrato illegale, 100 miglia all'interno del confine americano, trattano quella persona come se fosse sul confine e quindi un territorio diverso dagli Stati Uniti, non garantendogli quindi tutti i diritti che vengono garantiti sul territorio degli Stati Uniti. Questo va considerato perché bisogna essere realisti in questa materia. Qual è il problema fondamentale che si pone in questo momento? Il primo è quello che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto un discorso molto chiaro in Parlamento come programma del governo. Non vogliamo incidere tanto sugli arrivi ma sulle partenze, ha detto. E ha detto altresì che vogliamo fare un piano che ha chiamato Mattei, l'idea secondo me giustissima, per aiutare quei paesi da cui queste persone fuggono. Quindi c'è una linea di governo che in qualche modo va considerata. Professor Cassese, torniamo subito da lei. Mi scusi un secondo, devo la parola ad Andrea Purgatori che commentava le sue parole dicendo ci vuole qualche anno. Io non voglio soltanto commentarle perché certamente la lezione che viene dagli Stati Uniti personalmente non mi piace. Però vorrei dire una cosa perché mi sono documentato con i dati. Da quando si è insediato il governo Meloni sono arrivati in Italia all'incirca 9.000 migranti. Di questi soltanto, se non sbaglio, 857 sono quelli che sono stati salvati, diciamo recuperati dalle navi, dalle ONG. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che il racconto in base al quale queste navi delle ONG attirano i migranti e fanno aumentare questo traffico che viene fatto di esseri umani è totalmente falso. Perché se ne sono arrivati 9.000 e meno del 10% sono stati presi dalle ONG, ma tutti gli altri dalla Guardia Costiera, dalla Guardia di Finanza, cioè da unità del nostro Stato. Allora bisogna bloccare anche la Guardia Costiera, che come compito istituzionale è quello di soccorrere la gente in mare. Poi un altro dato, e passo la parola a chi altro vuole parlare. L'Agenzia Europea dell'Asilo, l'EASO, dice che nel 2021, perché sono gli ultimi dati più o meno disponibili, le richieste di protezione internazionale, che quindi riguardano i migranti che arrivano, sono state le seguenti. Germania 191.000, Francia 121.000, Spagna 65.000, Italia 53.000. Quindi è assolutamente falso che noi siamo quelli che ricevono un danno maggiore dall'arrivo tempo. Però andrei a mia memoria. Dopodiché il piano Mattei, io sono felice. Ma quanti anni ci vogliono per fare il piano Mattei? Quanti aeree bisogna prendere per Tripoli, Tunisi, Algeri, il Cairo? Quanti bisogna prendere? Vedete intanto la fila di migranti che sono sbarcati e i primi che salgono su questi autobus che poi li porteranno a un centro di raccolta nella città di Catania. Ecco, volevo fare una ricognizione fra i nostri ospiti e sapere se, molto giovane, Francesco Giubilei, ma a tua memoria Andrea, gli sbarchi selettivi, cioè una cosa un po' tremenda. Ecco, non so, mi vengono in mente soltanto degli esempi terrificanti nella storia e nella memoria. Sì, perché non è che ne rimangono 3.500 a bordo, ne rimangono 35. È la prima volta che accade in questo paese questo. I quali sono salvi per miracolo, vogliamo dircelo, perché comunque, diciamo il Canale di Sicilia è un cimitero dove ormai siamo credo a 30.000 e passa morti. Tu arrivi a Prodi, Tocchi Terra, finalmente Tocchi Terra, sbarchi. Sì, se ne vanno gli altri, te rimani lì senza nessuna idea di dove andrai a finire. Tra l'altro c'è un tweet di Victor Orban che si complimenta di poche ore fa, si complimenta con Giorgia Meloni per aver, forse lo possiamo vedere in inglese, ma ve lo traduciamo al volo finalmente. Grandi complimenti a Giorgia Meloni. Mette la foto del dottor. Mette grazie Giorgia in italiano però. Alla fine sì, l'hashtag è quello. Il nuovo governo sostanzialmente protegge i confini d'Europa, dice. Anche il Papa ha detto la sua. Il Papa ha detto che l'Unione Europea non può lasciare solo l'Italia. Allora qual è la linea del governo? La linea del governo è una linea, a mio modo di vedere, di buonsenso e parto anche io da dei dati. I dati ci dicono che nell'ultimo anno, ovvero da inizio anno ad oggi, quindi a inizio novembre, sono arrivati in Italia circa 87.000 migranti. Nel solo mese di ottobre sono arrivati 13.000 migranti. In tutto il 2019 sono arrivati 11.000 migranti. Ciò significa che in un singolo mese, ottobre, sono arrivati più migranti rispetto che tutto l'anno del 2019. Quindi è evidente che c'è un problema. Ma che problema è? Da cosa dipende secondo me? Il problema dipende dal fatto che il governo pone una serie di linee guida per cercare... Ma qual è l'innesso tra il numero di arrivi e l'insediamento del nuovo governo? Certamente. Nasce dal fatto che ci sono delle politiche che negli ultimi anni non sono state fatte per contrastare all'immigrazione irregolare. Se noi guardiamo quelli che erano i precedenti ministri all'interno, e penso non solo a un ministro di centrodestra come Matteo Salvini, ma penso anche al ministro Minniti, quindi di un governo di centrosinistra, erano state messe in atto una serie di misure per cercare di diminuire gli arrivi degli immigrati irregolari. Per esempio dare le motovedette ai libici che le usavano per sparare contro i migranti e facevano a mezzi con quelli che mattevano i migranti sulle barri. No, cercare di fare degli accordi con quelli che sono i paesi nordafricani, a partire per esempio dalla Tunisia, perché la Tunisia è un paese... Sono quelli però i regimi dei paesi nordafricani. Quella è la Libia, ma c'è la Tunisia che è un paese in cui c'è un governo stabile e arrivano quotidianamente dei migranti dalla Tunisia, quindi il governo cosa dice? Dice che dobbiamo intervenire in due modi. Il primo modo è cercare di fare in modo che le partenze diminuiscono, quindi intervenire a monte. In Africa ci vuole senza dubbio, come veniva detto poco fa, del tempo. Il secondo modo è invece dire che nel momento in cui ci sono degli immigrati irregolari che si trovano all'interno del mare Mediterraneo, su dell'ONG, devono arrivare, secondo il diritto internazionale, nel primo porto, ovvero nel porto sicuro. Se il primo porto è quello italiano, poi ci sarebbe anche Malta, però Malta che cosa fa? Rifiuta tutte le volte l'arrivo. Malta in proporzione prende più migranti di noi. Però rifiuta molto spesso le navi che si trovano più vicino ai porti di Malta rispetto ai porti italiani e Malta dice no, non potete venire qua, andate in Italia. Benissimo. Però nel momento in cui arrivano in Italia, il governo dice ridistribuiamo i migranti e mi ricollego alle parole di Papa Francesco, ovvero facciamo in modo che l'Unione Europea ci aiuti nel ridistribuire quelli che sono migranti. Scusami, scusi, si possono anche ridistribuire dopo, ma intanto bisogna farli scendere dalle navi, poi dopo si fa un piano Mattei. Bisogna farli arrivare nei nostri porti, però se c'è un NG che ha la bandiera tedesca o la bandiera norvegese, se ne deve far carico lo Stato di cui il diritto internazionale dice che possono arrivare al porto italiano, che è il porto sicuro. Nel momento in cui però sbarcano devono andare o in Germania e in Norvegia. Quindi vede che mi ha ragione, intanto devono sbarcare. Torniamo un attimo a Catania, per i puntatori, subito torniamo a dire, la questione di fondo è capire se questo meccanismo, che poi porterà al fatto che dovranno sbarcare tutti, perché anche lei forse sa, come noi, che questa storia si concluderà tra 48, 36, non sappiamo ore, in cui alla fine scenderanno tutti. Sì, il punto è dove andranno, se in Italia o in Italia o in Italia o in Italia o in Italia. Giorgia Meloni, abbiamo un deputato del PD che si trova lì sul... Fatemi dire solo una cosa breve, cioè questa operazione di blocco delle persone a bordo della selezione, eccetera, a che cosa dovrebbe portare? Che gli scafisti si spaventano e dicono no, non facciamo più andare i migranti in Italia perché ce li bloccano? Gli scafisti non gliene può fregare di meno, cioè, voglio dire, non ha alcun senso questa cosa. Non ha alcun senso nei numeri e non ha alcun senso dal punto di vista, diciamo, della politica internazionale che facciamo con quei paesi. Il problema è che può avercelo all'interno, perché la gente dice, hai visto quanto sono bravi? Hanno fermato i migranti e le ONG. 857 su 9 mila arrivati da quando c'erano. Allora, secchiamo da Meloni e poi andiamo a Catania e poi di nuovo da Cassese. Su questo punto interviene la Meloni, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, dice, commenta le parole del Papa, genericamente, grande attenzione, ringraziamento sentito, eccetera, ma in particolare per l'incoraggiamento e per l'invito rivolto alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e donne di buona volontà. Cioè mette l'attenzione, Meloni, al tema della comunità internazionale. Nicita, allora, Ludovica Ciriello si trova lì al porto di Catania, c'è un parlamentare, un senatore, perdon, del Partito Democratico. Vai, Ludovica. Sì, intanto vi do la notizia che l'Humanity One ha deciso di ricorrere al Tar del Lazio contro questa politica degli sbarchi selettivi, quindi contro lo sbarco selettivo di ieri notte, al cui il senatore Nicita ha assistito, dormendo a bordo, partecipando e assistendo alle operazioni. Che idea vi siete fatti e intanto cosa succederà se effettivamente l'Humanity One non lascerà il porto? Ma partiamo da quello che abbiamo osservato. Noi abbiamo osservato in concreto che cosa significa questo, diciamo, sbarco selettivo, questa analisi selettiva e io invito gli esponenti del centro-destra a venire qui, se sono così convinti delle proprie politiche, vengano a vedere negli occhi le persone alle quali vengono applicate. Queste politiche guardino negli occhi i ragazzi che dalla nave ti dicono perché io non posso scendere con gli occhi pieni di lacrime e ai quali tu non puoi dare delle risposte perché non gli puoi dire tu non puoi scendere, tu sì, tu no, perché questo genererebbe situazioni di disordine. Noi abbiamo visto delle analisi fatti molto bene dal punto di vista, come dire, umano. Poi abbiamo visto la dottoressa finire le proprie analisi con le lacrime perché alcuni dovevano restare a bordo. Perché? Perché che fisicamente non avevano dei problemi. Ora Bartolo mi ha chiamato poco fa per dirmi, Antonio ricordati, che le persone che ho visto suicidarsi nella mia lunga esperienza erano quelle che avevano il fisico integro perché coloro che avevano dei problemi fisici guarivano, quelli che avevano delle ferite dell'anima, come dice lui, invece non riuscivano a liberarsi. Qui proprio a pochi metri da qui ci sono 34 persone. La trentacinquesima ci è collassata davanti stamattina alle sette, c'era Sumaora, c'ero io e abbiamo chiamato noi l'ambulanza perché era andata via, non c'era più nessuno. Questo ci fa capire che questi ragazzi, perché sono dei ragazzi come i nostri figli, hanno semplicemente bisogno di curare una fragilità che non è semplicemente la fragilità del danno fisico. Una persona che supera un naufragio che viene raccolto è fragile. In particolare questi ragazzi, vuoi dire, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori, arrivano tutti dalla stessa area geografica? Dal Pakistan. Questi che sono rimasti nella Humanity, sì. Quelli che sono invece oggi di quest'altra nave vengono da 16 posti e tra l'altro sia quelli che sono rimasti nella Humanity sia questi sono tutte persone potenzialmente elegibili per la richiesta d'asilo e qui è il punto fondamentale rispetto a tutte le discussioni che noi facciamo. Noi stiamo applicando questa innovazione che secondo noi è totalmente contraria al diritto internazionale per questa idea selettiva che peraltro è vietata proprio da quella sentenza IRSI che cita il Ministro dell'Interno e però la provenienza esattamente da luoghi che meritano l'eligibilità per la richiesta di asilo. Quindi siamo veramente in un paradosso in cui sembra sono il Bangladesh, sono la Siria, sono l'Eritrea. Questi luoghi qui sono anche... Ma guardi che qua non c'entra tanto il diritto internazionale quanto il rispetto dei diritti umani elementari, cioè stiamo parlando di 34 persone che vengono da un paese come il Pakistan dove io inviterei chi ha deciso il blocco di queste navi a farsi una gita per capire che cos'è e da altri 16 paesi dove c'è guerra, dittature, siccità, in molti casi dove noi siamo corresponsabili di quello che accade. Allora fare politica su 34 povere persone che devono rimanere su una nave, secondo me è inaudito. Vorrei una questione prima di tornare al professor Cassese, Andrea. Molti in queste ore hanno fatto un paragone con quello che accadeva a Ellis Island nel secolo scorso quando arrivavano le navi degli immigrati e non tutti potevano, si scendeva e poi c'era una selezione. In che cosa ti convince e in che cosa no questo paragone con il tempo in cui gli italiani e gli europei arrivavano in America e dovevano essere accolti o non accolti? Intanto a Ellis Island arrivarono milioni di persone che hanno costruito gli Stati Uniti perché grazie anche a quelle persone e a centinaia di migliaia di italiani che poi gli Stati Uniti sono diventati quello che sono. Ma io personalmente sono contro ogni tipo di selezione, cioè io ne faccio una questione come dicevo poco fa, di rispetto dei diritti umani elementari, cioè non credo che decidere che si fa scendere una donna con un bambino e si lascia a bordo un ragazzino di 18 anni che magari viene da un paese in guerra e lo si lascia a bordo senza alcun tipo di speranza, ma poi io vorrei dire scusate, allora torno al dato di prima, 9.000 migranti arrivati da quando c'è il governo Meloni a oggi. Se non fossero stati salvati dalla nostra guardia costiera e dalle ONG per meno del 10%, molto probabilmente la metà di queste 9.000 persone sarebbero morte in mano. Noi vogliamo questo, io non lo so, voglio capirlo. Solo con un punto però, perché c'è un ricorso, perché questa è una questione, ci se lo spiega molto rapidamente. Adesso la nave annuncia un ricorso al TAR del Lazio contro la decisione del governo, ma è piuttosto incredibile che adesso passeranno appunto dei giorni probabilmente, no? In questa situazione di limbo sostanzialmente. Questo è certamente un problema concreto e succederà quello che è successo in passato con questo blocco, ma vorrei dire che sono d'accordo completamente con Porgatorio, con quello che diceva, negativamente sulla soluzione americana e sul fatto che poi ci sono tanti altri migranti che approdano in Italia in altri modi. Però lo scopo fondamentale è la ricollocazione e la cosa fondamentale è che fare un braccio di ferro e fare la voce urlare non consente la ricollocazione, perché noi abbiamo avuto un tentativo nel 2015 e un altro nel 2020 e una proposta francese a cui hanno aderito 18 paesi nel maggio o giugno di quest'anno. Quindi dice che non serve per ricollocarli questa mossa, questo lei professore ci diceva? Non è utile. Non è utile. Se lei vuole mettersi d'accordo con altri paesi, secondo lei vale la pena di fargli guerra o mettersi intorno a un tavolo? E questo diciamo è un principio generale che vale anche su altri scenari. Francesco Giubilei, stavi... Sì, volevo fare un collegamento rispetto a quanto veniva detto, ovvero il parallelismo tra quella che era la situazione degli italiani che emigravano decenni fa o secoli fa negli Stati Uniti, ma comunque in generale in America, rispetto a quella che è la situazione degli attuali migranti e lo dico da figlio di una madre venezuelana emigrata e nata in Venezuela da nonni che erano italiani, quindi conosco bene la situazione degli immigrati italiani in quegli anni. È una situazione totalmente diversa, perché il nostro paese, al netto di quello che magari si vuole far emergere in questi frangenti, è un paese solidale, è un paese che ha sempre aiutato le persone che entrano nei confini italiani, è un paese che ha accolto milioni di stranieri ed è un paese in cui c'è una forte solidarietà nei confronti dei stranieri. Però c'è un distinguo tra chi entra regolarmente nel nostro paese e tra quella che è un'immigrazione irregolare, perché nel momento in cui noi mettiamo sullo stesso piano un irregolare e una persona che entra regolarmente in Italia non stiamo neanche aiutando quegli immigrati che arrivano nel nostro paese, si integrano, pagano le tasse, rispettano quelle che sono nelle nostre leggi. Il vero punto della questione è questo, non è una contrarietà. La destra, il centro-destra non ha un contrario, tu cura l'immigrazione. No, semplicemente dice chi entra nel nostro paese regolarmente e rispetta quelle che sono le nostre leggi, rispetta quella della nostra storia, è il benvenuto. No, è il benvenuto. Lui usò in una fase di campagna elettronale la parola di sostituzione etnica. Chi entra in Italia regolarmente, quella che può essere una manodopera qualificata. Io sono stato varie volte in Sicilia, ho girato tutti i confini europei. Io voglio sapere se sei stato a Lampedusa. A Lampedusa direttamente no, ma sono stato in Sicilia. Allora, vada a Lampedusa, si faccia un giro. Sono stato in tutti i confini europei con l'Ungheria, l'Ucraina, l'Seuta. Senta me, lei che cita il Papa, il Papa ha fatto il primo viaggio del suo pontificato a Lampedusa. Ci vada anche lei. Sì, ma sono stato dentro gli hotspot, quindi non ho visto le situazioni direttamente. Vada a Lampedusa, dove da 50 anni la gente di Lampedusa, a cui secondo me bisognerebbe dare, proporli per il Nobel per la pace, accolgono i migranti e diciamo, no, non solo, ma lei deve andare lì, vada a parlare con il guardiano del cimitero, vada a vedere come sono fatte le tombe, non vada negli hotspot. Guardi che l'ho fatto in tutta Europa, guardi, sono stato a confine con l'Ucraina a vedere la situazione dei migranti, sono stato in Polonia, sono stato in Ungheria, sono stato a Sicilia, ma non deve andare in Ungheria dove c'è Orban, ma dove c'è Orban, dove c'è Orban, non vede nulla, non vede nulla, sono stato in Sicilia per mille occasioni. Le ho dato due o tre indicazioni. Però io non ho capito bene, Davide, questo fatto del TAR, andiamo a sentire, no, perché il TAR, Ludovica Ciriello, a Catania, stanno ancora sbarcando, vedo movimento dietro di te, che cosa significa? Stanno ancora sbarcando, vedi qui ci sono gli autobus. Che cosa significa il ricorso al TAR concretamente, che significa adesso? Significa che loro non si muovono dal porto e che aspettano di far sbarcare anche le ultime 34 persone. Quindi fino a che non ci sarà la sentenza del Tribunale amministrativo, quelle persone rimarranno sulla nave e la nave rimarrà in porto. Contano di rimanere qui. E chiedono insieme con alcuni... E' così, professore? Quindi rimangono lì fino a quando... Cioè, diciamo, il capitale della nave non lascia il porto, perché ha detto non eseguo l'ordine di lasciare il porto e rimango qui. Si aspetta la sentenza del TAR a questo punto, corretto, professore? Si aspetta un'ordinanza cautelare che si spera possa arrivare anche nel giro di qualche ora o di un giorno o due giorni. Vabbè, e niente, un'ordinanza cautelare. E poi si vedrà. Ne riparleremo senz'altro, perché questo è il grande tema. Grazie ad Andrea Purgatori, grazie a Francesco Giubilei. Gli sbarchi selettivi ci lasciano francamente davvero una questione di umanità e non tanto di diritto. Secondo me su questo torneremo ancora la prossima settimana. Noi ci rivediamo qui insieme a voi. Sabato prossimo. Dopo di noi Giletti non è l'arena. Crediamo che continuerà a raccontarvi quello che accade. Chiudiamo allora direi con le immagini dal porto di Catania. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.